ragazzi buongiorno a tutti purtroppo dobbiamo fare il video staccati e ora andrea vi racconterà perché perché dobbiamo ottemperare alla legge in materia sul coronavirus quindi bisogna stare sicuramente staccati di un metro o più e questo video verrà fatto in questa maniera appunto per seguire tali norme purtroppo il video che andiamo a fare ora sarà di indovinare il titolo del film in base alla colonna sonora ci riusciremo mi sa di no ci troviamo e chi perde paga scena all'orologio di ponte d'era ovviamente quando finisce l'allerta quindi io una bella bistecca anche una bella bistecca di chiamina tagliata o sennò magari di angus irlandese io di tagliata una bistecca di tagliata non si è mai vista comunque una bistecca va bene ok comunque ora iniziamo il video indovina quest'altro questa è la prima vediamo sta via vediamo stargate si indovinato intanto l'antipasto è già 1 a 0 ragazzi vediamo se ora indovina lui mette la musica quale sarà vediamo vediamo un po' quando tempo ho per rispondere poco ma manda avanti posso comprare una vocale no manda avanti qual è giro la ruota vai secondo me può essere aladin guardate ha indovinato quindi 1 a 1 vediamo se riesce a indovinare questa questa è un po' vediamo tra cubetto è un tra cubetto non ne vediamo boh petta io la provo la butta di bomber brava hai sbagliato mi dispiace ho perso quindi siamo 2 a 1 per per lui vediamo se indovina lui aspettate questa raga cavolata è irriconoscibile questa può essere quale può essere può essere forse avvengers and gamer nooo sbagliato quindi siamo 2 a 2 prova stavolta a indovinare questa canzone molto chiffon ho paura che cavolo è ma che roba è io riprovo eh è bomber eh sì già davvero 3 a 2 dai e vediamo se indovina questa questa secondo me può essere questa se non indovina questa veramente ma anche nooo 4 a 2 e questa la indovinerà antonella nooo mi sa di nooo sorvegliato speciale penso proprio di sì anche perché l'altra canzone è inconfondibile 4 a 2 eh già e questa la indovini è facilissima eh aspetta 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 questa la so l'hai indovinata siamo a 3 dai siamo 4 a 3 eee cioè ragazzi c'è in gioco una scena qui ce la giochiamo questa non si può non indovinare sarebbe un'eresia pirati no scherzo ma è inconfondibile questo ragazzi ma è il gradiatore e beh sì eh non si può non indovinare ma sì che tristezza siamo 5 a 3 eee un classico se non indovini questo mamma mia pensaci bene sì 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 questa è The Greatest Showman e fai vedere il foglio e voilà signori e voilà signori ho vinto lo stesso io però ho vinto lo stesso lei 5 a 4 5 a 4 ha vinto quindi avendo vinto lei la cena sicuramente la porterò orologio orologio no mi tocca portare l'orologio dai ragazzi ci mancate eh e ci mancate tutti ragazzi il video è finito e ora vi diremo i film sbagliati esatto i nostri film preferiti sbagliati scusate esatto allora adesso vi saremo vi faremo sentite la cazzone e cos'era adesso vi faremo vedere l'ignorantamentio ovvero che questo era cos'era era spiderman ragazzi io amo spiderman non è possibile io invece avevo sbagliato aspettate questa che per gli amanti della saga non si può sbagliare scusate per gli amanti della saga di fast and furious non avevo riconosciuto la canzone ha toppato fast and furious 8 ai 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 non avevo riconosciuto la canzone scusate questo era avengers avengers in game cioè ha toppato avengers non è possibile se ne fa possibile ma nooo stanno volando tutti i fogli ma come si fa non si puede signori allora ragazzi purtroppo il video è finito e vi volevamo soltanto ricordare di seguire i due canali tanto centonella e aggeggio tv yeah ragazzi ci vediamo al prossimo video ragazzi vi volevo fare una semplice e banalissima domanda fateci sapere ma di tutti questi film appena linkati quali sono i vostri preferiti e poi un sondaggio nel prossimo video volete vedere la challenge dei 5 libri preferiti o dei 5 cartoni preferiti a voi la tua sentenza commentate e seguiteci